Il girone infernale dei parcheggi a pagamento a Teramo, tra l'aumento delle tariffe, a Teramo si pagherebbe quattro volte di più che nella vicina Ascoli, e posti introvabili, la sosta in città è diventata un'odissea. La candidata al sindaco Maria Cristina Marroni ha lanciato l'idea del free parking in attesa di redigere il piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile. Abbiamo preparato una scheda tecnica in cui dimostriamo che non c'è programmazione nel comune di Teramo, non c'è stata programmazione nel comune di Teramo perché un buon comune si amministra per quanto attiene il tema dei parcheggi, prima risolvendo e stipulando un nuovo PUT, un nuovo PUMS, un piano urbano del traffico, e poi si procede all'interno del piano urbano del traffico stesso a programmare i parcheggi, gli stalli e tutto ciò che consegue. Invece qui si è fatto esattamente il contrario, si è partiti dalla fine, cioè dall'organizzazione degli stalli e dei parcheggi per forse poi tornare indietro, forse poi tornare indietro nemmeno perché siamo a 40 giorni circa dalle elezioni, quindi questo piano urbano del traffico probabilmente non avrà mai la riscrittura e il riequilibrio. Abbiamo individuato molte criticità, alcuni aspetti che fanno riferimento innanzitutto alle tariffe dei parcheggi stessi perché abbiamo fatto un confronto con la città di Ascoli e con la città di Pescara e abbiamo proprio parcheggiato ad Ascoli Piceno per tre ore e lì abbiamo pagato un solo euro. A Teramo avremmo pagato esattamente quattro volte tanto, più di quattro volte tanto, è un dato questo oggettivo, i residenti lo sanno, perché da maggio scorso, dal maggio del 2022, quando c'è stato un cambio di gestore nel piano parcheggi, sono aumentate le tariffe e addirittura alcuni cittadini hanno pagato multe per tre minuti di ritardo. È inaccettabile la gestione di un solo pubblico che va a, piuttosto che favorire i cittadini, anche i cittadini residenti in alcune zone, sfavorisce i cittadini stessi.